salve a tutti oggi inizio una nuova serie il gioco che ho scelto è un tornado so che è un gioco un po vecchio ma il mio scopo oltre sopravvivere più a lungo possibile è anche quello di adempiere a degli obiettivi che elencherò sotto al video spero possa interessarvi questa nuova serie come interessa a me vedere se potrò adempiere a tutto l'elenco di obiettivi ok si comincia grazie 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 Grazie. 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 Grazie.